Anche poche telefonate possono essere moleste e determinare lo stalking, cioè il reato da disturbo, professor Centore? Sì, come no, come no, insomma, ecco, il reato da disturbo, insomma, il reato da disturbo che gli inglesi con questo termine brutto, a mio avviso, stalking, comunque, vabbè, di agitazione, di scompiglio, il reato da disturbo, il reato da disturbo, non so, le molestie, le continue telefonate, particolarmente da parte degli ex innamorati o da parte anche di chi ha sottoscritto una cambiata e non la può più pagare, si vede soltanto così notte e giorno con il telefono che squilla, il creditore che rivendica questi soldi, poco o molti che ha prestato, il mancato onore di questa cambiata. E addirittura lo stalking dalle ultime sentenze lo si ha anche quando nell'ambito di un condominio, che si è parlato anche di queste, di molestie che si possono avere, allora quando l'amministratore condominiale imperversa nel chiedere il pagamento della bolletta pur sapendo che c'è qualche difficoltà temporale, cioè addirittura si è ipotizzata questa forma di reato, ecco, anche nell'ambito condominiale. Ma per tornare alla sua domanda, indiscutibilmente anche poche telefonate, questo hanno detto i magistrati, però telefonate di un certo contenuto, di un certo tono, anche di una frequenza ravvicinata, sia pure numericamente poche, danno luogo proprio a questo reato. La novità sta proprio in questo, che i magistrati hanno chiarito che non è che due o dieci o venti telefonate vengano a concretizzare questo reato, no, bastano anche tre o quattro, però di un certo contenuto, di una certa succedeneità, perdonate questa difficoltà linguistica, comunque determinano questo reato. Attenti voi, particolarmente ex innamorati, ecco, con queste persecuzioni telefoniche, con inviti varie, con minacce anche varie, così come abbiamo avuto modo di riscontrare in occasione delle ultime vertenze da noi curate.